ok va bene così si ok gli strumentini siamo a posto è il modo di non portare il triangolo col maestro accordiamo il triangolo si adesso vi do la campanella al maestro si prego maestro la campanella da salremo eh da salremo accordiamo il triangolo accordiamo il triangolo un attimo la pacchetta la salve è stata la parche accordiamo il triangolo un 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.